La campagna di vaccinazione antinfluenzale è già partita da alcuni giorni, ma se per i cittadini baresi è sufficiente rivolgersi ai medici di famiglia e ai pediatri, tante altre persone rischiano invece di non ricevere l'adeguata assistenza. Sono i senza fissa dimora, i rom e i minori stranieri non accompagnati, che proprio per il loro stile di vita, quasi sempre all'aperto e al freddo, rischiano più di altri di contrare malattie. Per pianificare e organizzare al meglio la campagna di vaccinazione nel capoluogo è stato organizzato un incontro tecnico al quale hanno partecipato i sindacati dei medici di famiglia e dei pediatri, i direttori di alcuni distretti sanitari, rappresentanti della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato. A sintetizzare lo spirito dell'iniziativa, l'assessore al welfare del comune di Bari, Ludovico Abbaticchio. Verranno vaccinati soggetti deboli, anziani, malati cronici, ma anche gli extracomunitari, comunitari senza fissa dimora e quindi questa attenzione verso anche il mondo dell'infanzia più debole. Ma ciò che è emesso ancora di più è stato il fatto che si sta per avviare in maniera ufficiale nei distretti sanitari e anche la possibilità di assistere gli immigrati e anche sia comunitari che extracomunitari attraverso il codice STP ed ENI che possono accedere tranquillamente a un medico di famiglia o a un pediatra, se hanno dei bambini, quindi questi possono essere assisti per motivazione di urgenza soprattutto.